Bentornati fratelli di Tuberanza e finalmente nel gioco completo! Sto parlando di Dragon Ball Legend, il mio gioco a tema Dragon Ball per mobile preferito. Perciò se questo gioco vi piace, benvenuti! Se il gioco non vi piace, beh, cercate di farvelo piacere, perché tratterò Dragon Ball Legend con costanza su questo canale. Beh ragazzi, è così che faccio quando un gioco mi piace. Poi è chiaro, se non piace proprio a nessuno, non lo porto più, ma la vedo molto difficile. Quindi ringrazio tutti coloro che supporteranno questi video con un bel pollicione all'insù e ovviamente un grosso bacione a chi li condivide. Purtroppo questo gioco ragazzi è ancora in fase embrionale, quindi non c'è proprio tutto e la storia si ferma, non mi ricordo di preciso dove, ma si ferma abbastanza presto. Non preoccupatevi, c'è tutto ciò che serve per divertirsi. Infatti abbiamo le summon, il PvP, le missioni. Raga, lasciate sta, io mi ci sono chiuso. Infatti in mezz'ora, anzi un'ora e mezza, sono già a livello 7. Questo perché ho svolto tutte le missioni. Raga, lasciatemi perde. Sono andato fuori di testa. Le daily, vabbè, le ho finite in 4 secondi. Ora mancano le zeta mission e gli event che non ci sono. Ma tanto per cominciare vi mostro la mia squadra. Lo so, lo so, lo so. Lo avete già visto, lo avete già visto. E quando mi è stato regalato ragazzi, mi sono emozionato. Mi sono emozionato perché, vabbè, dai, aspettate che... Ma di che cosa parliamo ragazzi? È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Dunque, andiamo nelle salmon, torniamo in noi. Salmon. Fantastico. Avete visto bene. In queste salmon possiamo trovare Goku Super Saiyan, Junior, Vegeta, Pei-Q-Han e Pan. Fatemi un attimo vedere perché qui abbiamo le percentuali. L'1% di trovare Goku, l'1% di trovare Vegeta, Junior, Pei-Q-Han, eccetera, eccetera. Allora, c'è un'altra cosa che potrei fare per ottenere Goku Super Saiyan, ovvero raggiungere il livello 20. Non è affatto facile ragazzi, ci vogliono molte missioni, molto tempo. Ma noi intanto proviamo con le salmon. Andiamo con la prima singola. Spenderò all'incirca mille cristalli, ecco, mille gemme. Vediamo un po' la prima salmon come va. Uh, una, due... Ragazzi, è la prima volta che mi capitano tre navicelle dietro Freezer. Potrebbe essere una buona cosa. Pull. Vai. Kamehame. Ah! Vai. Boom. Ragazzi, attenzione. Extreme Radish! Non male ragazzi, non male. Assolutamente niente male. Wow. E questo chiaramente poi entrerà a far parte della nostra squadra, è logico. Proviamo un'altra singola. Che spettacolo vedere le tre capsule dietro. Eh, questa volta ne è una sola. Vabbè, schippiamo, dai. Recom. Mi dai Recom. Proviamo una consecutive salmon. Che mi viene a costare mille cristalli. O crono cristalli. Proviamoci. È la mia, è la mia prima ragazzi, eh. Non ne ho mai fatte prima. Di queste multi, chiaramente. Oh mio Dio! Si è trasformato! Avete visto quante capsule dietro? Ragazzi, non ci sto a credere. Vai! Mamma mia ragazzi, che spettacolo! Vediamo cosa succede. Zarbon. Non mi serve. Non mi serve neanche Nappa, ma è comunque Extreme. L'inutile Krillie. L'inutile Cyberman. L'inutilissimo Cyberman. Ti prego. Ti prego, datemi una... Una cosa speciale. Extreme Tao. Va bene. Oddio Recom, che dupalle. Radiciro. Un'altra volta. Niente, è finito. Mannaggia la miseriaccia, raga. Limit Break. Eh, vabbè, sì. Limit Break di Zarbon e di Krillie. Sai dove me li sbatto questi io? Peccato ragazzi. L'animazione prometteva davvero molto molto bene. Ma a quanto pare... Mi sono illuso. Mi sono illuso. Non importa, non importa. Andiamo avanti con le singole. Mamma mia, non c'è neanche Nanna... Vabbè, almeno è un personaggio che non abbiamo. Ci sta, ci sta. Un'altra singola summon, ragazzi, dai. Io sto consumando tutti questi cristalli, ma in realtà dovrei aspett... Uno, due, tre, quattro... Erano quattro o cinque. Mi sembrano cinque, ragazzi. Cinque non è male. Vai. Vai, Goku. Ce la facciamo a sbattergliela in faccia, sta... Sta bomba? Cos'è? Extreme Goku. Vabbè, vabbè. Buono, mi serve per il Limit Break. Dai, ci può stare. Goku, ragazzi, è abbastanza forte. 23.000. Dai, va bene. Non ci lamentiamo. Per noi ora è tutto oro quel che luccica. Poi è chiaro, più andremo avanti nel gioco, più si troveranno cose. È quello che spero. Eh, ce l'abbiamo quasi tutta la squadra Ginyu, eh? Dai, quasi tutta. Potrei fare altre mille, ragazzi. Ma io non le voglio spendere tutte, ste... Tutte, ste, ste, ste gemme. Perché mi serviranno successivamente. Beh, manco una. Vabbè. Hero, Vegeta. Dai, facciamone un'altra. Facciamone un'altra, ragazzi. Poi, svolgiamo qualche missione e andiamo nel PvP. Promesso. Una, due, tre. No, si è trasformato! Extreme Radish. Mannaggia. Eh, raga, ho saltato l'animazione. Peccato. Eh, non è che cambiava molto, ma... Ok. Potrei farne un'altra singola. Sì, dai, raga. Mi sta piglia troppo bene. A me ste summon così mi emozionano. Tra l'altro è appena uscito il sole. Prima era nuvoloso. Ora esce il sole. Nessuna trasformazione. Possiamo schippare. Hero, Yanko. Limit break anche per lui. Peccato. Peccato. Eh, vabbè, ragazzi. Oh, abbiamo speso quasi 1500... 1500 cristalli, eh. In realtà, però, se io ne spendessi altri 100, sarebbero proprio 1500. Quindi nel titolo posso scrivere 1500. Dai. Sono sicuro che la prossima summon è quella buona. Guarda, dai, guarda qua quanta roba, ragazzi. Junior, Vegeta, PQ1. Ma vi prego, uno almeno. Mica ve ne chiedo chissà quanti. Eh, grazie al cavolo. Me ne... Me ne servirebbe uno. Una navicella. Goku non si trasforma. E possiamo quindi schippare. Merda lì, oh, mamma mia. Krillie, Krillie, Krillie. No, ragazzi, Krillie. Krillie dovrebbe essere bandito da ogni gioco Dragon Ball. Z mission. Allora, andiamo a svolgere questa. No, l'affrendere quest, no. Questa non la posso fare. Check news, vabbè. Andiamo a vedere le news. Dove sono le news? Eccole. Che be... Aspetta, vediamo i dettagli. Forse ce lo dà dopo. Ho completato la missione? Yes! Eccola qua. Check news. Abbiamo fatto contento il gioco. Almeno ci ha dato due. Quindi proprio sprecatissimo. Finish adventure five times. Sì, ma insomma... Ah, win PvP. Ok, dai. Andiamo nel PvP direttamente, ragazzi. Il team è già pronto. Andiamo nel rating match. Su cellulare è facile giocare. No, dai. Questo c'ha già Vegeta. Ma sì. Eh, vabbè. Vegeta è cosa? Quindi soffre il giallo. Eh, il giallo chi me lo dà a me? E allora mettiamo... Facciamo così, dai. Comunque, stavo dicendo. Su cellulare schivare ed attaccare è più facile. Vediamo se qui, sull'emulatore per PC, è un po' più facile. O se magari è più difficile. Ma io ci provo lo stesso, ragazzi. Eh, no. È più... È meglio su... È meglio sul cellulare. Perché qui dovete cliccare... Eh, vabbè. Mi ha asfaltato, ragazzi. Cioè. Guarda, sì. Ciao. Ho già perso un personaggio. Ciaoone proprio. Vai. È il mio momento. Penso che questi video dovrò registrarli su cellulare. Sì. Dai. No, raga. Non riesco. Il PvP sul PC non si può fare. Assolutamente no. Mi ha ucciso un altro... Un altro personaggio. È tosta. È tosta col mouse. Vai. Ole. Beccato. Vai, dammi le palline. Ole. Eh, ma perché non mi ha dato la... Ah, eccolo. Vai, 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 Freezer. Vai. Proviamo con il rosso. Riuscirò a finirlo, secondo voi? Almeno uno? Vai, ce l'abbiamo. Uh. E invece sì, ragazzi. Freezer va alla riscosta. Riscosta? Vai, 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 Freezer. Vai, Freezer. Ok. Oh, le. Vai, vai. Eh, l'ha ritirato, Vegeta. Se no, glielo schioppavo pure quello. Ragazzi, scusate il silenzio, ma sto concentratissimo. Comunque questo è scarsissimo, eh, ma lo dico. Cioè, è veramente scarso. Con quei personaggi io avrei chiuso la battaglia molto prima. Poi, è chiaro, lui mi fa un sacco di danni perché il livello è superiore. E poi, chiaramente, so pure più forti. Beh, bravo, hai vinto. Complimenti. Le ricompense quando perdo. Boh, ok. È difficile. E magari un'altra volta. No, ragazzi, ma questo non può avere due SP. Dai, su. Ma di che parliamo? C'è questo, c'ha Vegetta SP e PQA. Ah, ok, meno male, la connessione è persa. Ringraziando il cielo. Boh, io non me ne capacito. Ho speso 1500, non ho trovato niente. Ecco, questo è un altro disgraziato come noi, quindi ce la possiamo giocare. Vai, ready. Iniziamo. Devo abituarmi con il mouse, ragazzi, assolutamente. Eh, sto giro mi ha preso. È stato bravo. Porca miseria, regà, me l'ha sfondato. Vai, 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 vai Freezer, vai Freezer. Attiva pure la tua abilità speciale. Absolute Abile. Malvagità assoluta. Mamma mia, che schivata! Eh, no, raga, non me l'ha schivata sto giro. Non ci posso fare niente. Vai, 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 mo così, vai così. Ho pure caricato il Rating Rush. Il Rising Rush, no, il Rating Rush. Battle Instinct. Vai, vai, vai. Oh! Se mo' non ce lo prendo. Mannaggia, facevo un bordello. Rosso. Con questo io lo massacro, però... Dovevo forse tenermi... Oh, ha zecchato. Ha zecchato, non ci credo. Non ci credo, non è possibile. Boom! Ma... 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 Ragazzi, ma... Verde. Rosso. Ci sta dicendo malissimo, ragazzi. C'è, proprio. Mori. Ma proprio... Ma ragazzi, va a rilento. Ma che cacchio fa? Ma dai, ma io clicco, non... Calmi, calmi. Non iniziamo a incazzarci su questo gioco. Andiamo calmi. Abbiamo perso un'altra battaglia che dovevo vincere. Vabbè, su cellulare l'avrei stravinta. Riproviamo. Facciamo un'altra... Un'altra... Un'altra partita nel PvP. Trovato. Dai, questo forse è un po' più abbordabile per noi. Anche se con i livelli... Vabbè, noi siamo messi bene, a parte Freezer. Dai, 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 dai. È solo una questione di abitudine, ragazzi. Ce la facciamo. Vai. Andiamo, andiamo, andiamo. Quindi? Vai. Vai, 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 Freezer, vai, Freezer. Ah, sono... Sono sfavorevole contro di lui. Devo cambiare. Sono di qua. Io, per realtà, volevo schivare. No, raga, non schiva. Cioè, non schiva qua. Io mi ci sto veramente tagliando con sto mouse. Assassino virtuoso. Mottivo pure l'abilità. Vai. Oh. Ok, sei morto. Attaccalo però adesso. Ok, bravo. Rising Rush, perfetto qui. Eh, mo, mo quello che prende. Io piglio... Vedete che mo me lo zecca di nuovo? No, meno male. Andate, ragazzi. Portiamocela a casa sta partita. Forza. Rising KO. K.O. Eh, forse... Ah, ecco perché non me lo schivava prima. Rosso. Dai, dai, che tu sei un tipo da rosso, lo so. Yes! Vai, vai. Vai così. Come rinnesca il freezer. Bestiale. Guardate, guardate, guardate la luminosità qua dentro, ragazzi. È uscito il sole e mi scombussola tutto. Incredibile. Prima là fuori era nuvoloso. Scusate, purtroppo è così. Uh, altri 20. 40 cristalli ci siamo pappati. Boh, ragazzi, allora. Per oggi è veramente tutto. Nei pro... No, non la posso vedere sta luce così. Ok, ho risolto. Dicevo, per oggi è veramente tutto. Noi ci vediamo con il prossimo video dove spero di aver preso meglio la mano con il mouse. Sempre e solo qui, su Tuberanza. Ciao! Ciao!